come una bacchetta magica hai preso in mano il pennello per colorare tutto il mondo intorno a te affronti ogni giorno la sma trasformando la parola nell'acronimo senza mai arrendersi con i tuoi occhioni felici e i tuoi sorrisi hai svelato i colori dell'arcobaleno affrontando le tue giornate le tue sfide senza mai arrenderti e insegnando anche a noi a non arrenderci mai la magia dei tuoi colori è l'incantesimo con cui riusciamo ad amare la vita a viverla con positività e ad apprezzare soprattutto le cose più semplici qualcuno compie gli anni oggi? buon compleanno noemi vi aspettiamo per festeggiare insieme domenica 11 giugno ore 18 di Torium Flaiano Pescara 11 anni senza mai arrendersi ciao auguri piccola senza mai arrendersi